Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Il caso che affronto oggi, quello di Willy Monteiro Duarte, mi ha colpito tantissimo fin da quando si è verificato nel 2020, infatti ho seguito con attenzione tutte le novità sopraggiunte nei mesi successivi. Trovo sia necessario raccontare questa storia e per cominciare possiamo porci una domanda. Come ci comportiamo quando incontriamo un amico in difficoltà? Magari interveniamo per aiutarlo, come i nostri genitori ci hanno insegnato a fare, inculcandoci il valore dell'amicizia. Ma potremmo mai immaginare che, così facendo, rischiamo di andare incontro a un risvolto fatale per noi? Ecco cos'è successo a Willy, che è semplicemente intervenuto per sedare e non alimentare. Una rissa in cui era coinvolto un suo amico. Lui non ha fatto nulla di male. Prima di raccontarvi gli eventi avvenuti nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, credo sia opportuno parlarvi un po' di Willy. Aveva 21 anni, era nato a Roma da genitori originari di Capoverde e abitava con la famiglia Palliano, in provincia di Frosinone. Era dunque figlio di emigranti, arrivato in Italia tanti anni prima, ed era cresciuto tra i vicoli di un caratteristico borgo medioevale dell'alta ciocciaria, circondato dalla natura, dove mamma e papà lavoravano come braccianti in un'azienda agricola. Gente per bene e onesta. Non ci sono dubbi su questo aspetto. Chi confermano tutti? Allo stesso modo tutti descrivono Willy come un bravo ragazzo, non beveva, non faceva uso di stupefacenti, infatti era lui a riportare a casa gli amici dopo una serata in cui loro avevano bevuto. Era un ragazzo semplice e determinato, era stato uno studente modello dell'istituto alberghiero Buonarroti di Fiuggi, tra le scuole più prestigiose d'Italia del settore di riferimento. Era ligio e rispettoso delle regole e soprattutto del prossimo. In classe lo chiamavano Willino, con affetto perché era dolce e sempre sorridente. Mentre andava ancora a scuola, Willy si dava già da fare. Nei weekend lavorava in un ristorante a Palliano, fino a quando il locale non ha chiuso. A questo punto, per svolgere un altro impiego, era andato per tre mesi in Calabria. Poi aveva intrapreso una nuova esperienza di lavoro all'inizio dell'autunno, come aiuto cuoco, all'hotel degli amici della comunità montana di Artena. Proprio all'hotel degli amici aveva avviato una raccolta fondi per supportare la famiglia. Willy contribuiva al bilancio domestico. Spesso pagava lui la spesa e aiutava sua madre. L'accompagnava in macchina a fare le commissioni. Era sempre disponibile. Willy inoltre giocava nella squadra di calcio della sua cittadina. Era un tifoso sfegatato della Roma e sognava di indossare la maglia giallorossa. I compagni della società sportiva del paese, quando apprenderanno ciò che gli è accaduto, ne resteranno sconvolti. Anche loro descrivono Willy come l'anima della squadra della sua cittadina. Era allegro e cercava di tirare su il morale a tutti nei momenti di sconforto. Non aveva mai dato problemi, neanche da adolescente. Mai era stato coinvolto in un litigio. Negli anni passati, a Ferragosto, Willy aveva preso parte alla rievocazione storica del Paglio di Pagliano, preceduto dalla festa dell'Assunta. Il ragazzo sfilava orgoglioso, indossando abiti risalenti al Cinquecento. Ma ora torniamo al terribile fatto di cronaca che lo ha visto protagonista. È la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 e ci troviamo a Colleferro, all'interno del Risto Pub Due di Picche, uno dei locali più frequentati della zona. È circa mezzanotte e alcuni amici stanno trascorrendo lì la serata. Il gruppo è composto da Alessandro Rosati, Federico Zurma, la fidanzata Azzurra Biasotti, le amiche Ludovica del Ferraro e Rebecca Franco. Di fronte al pub, oltre una scalinata, si trova il piazzale Overdan, dove tutti parcheggiano le auto. Mentre percorrono le scale che separano il pub dal parcheggio, le ragazze vengono apostrofate in maniera volgare da alcuni coetanei. In pratica subiscono del catcalling. Gli autori di questi apprezzamenti fuori luogo sono Francesco Belleggia, che ha un braccio ingessato, e Mario Pincarelli, che indossa una camicia bianca e ha una lacrima nera tatuata sotto l'occhio. Entrambi risiedono nel paese di Artena, distante appena 8 chilometri. Pochi, sì, ma sufficienti a fomentare una specie di rivalità territoriale. All'inizio i ragazzi si limitano a scambiarsi qualche frase e sguardi minacciosi, che però sembrano esaurirsi senza conseguenze. Federico Zurma, ex compagno di scuola di Willy e Alessandro, e, come detto, fidanzato di Azzurra, chiede semplicemente spiegazione ai due ragazzi per il loro comportamento. A questo punto il diverbio si accende, Francesco Belleggia sferra un pugno a Federico, facendolo cadere dalle scale. A causa di questo evento la lite degenera, i ragazzi iniziano a spintonarsi, si sfostano nei giardinetti di fronte, mentre le ragazze rimangono in disparte nei pressi della vicina edicola di giornali. Il litigio non accenna a placarsi, anche perché accorrono sempre più persone. Arriviamo all'una e mezza. Willy ha finito di lavorare all'hotel degli amici, ed è in giro con l'amico Samuele Cenciarelli. Anche loro sono in quella zona, ma la loro intenzione non è quella di entrare nel pub. In realtà i due ragazzi stanno tornando a casa, a Palliano, paese non molto distante, quando Willy nota la rissa e si preoccupa immediatamente. Tra i ragazzi che si urlano addosso, ha riconosciuto il suo ex compagno di scuola, Federico Zurma. Così si avvicina semplicemente per capire cosa sta succedendo e per tentare di sedare gli animi. Dopo circa mezz'ora sopraggiunge un SUV nero, Mark Audi. Dal veicolo escono di corso i fratelli bianchi, Marco e Gabriele, che vivono ad Artena. I due, esperti di combattimento e chiamati da qualcuno per dare spettacolo, si lanciano nella folla e iniziano a tirare violenti calci e pugni a tutti i presenti. Francesco Belleggio e Mario Pincarelli si uniscono a loro nel pestaggio. Willy viene aggredito selvaggiamente. Il suo corpo gracile subisce colpi di inaudita violenza, tanto che continuano a infierire su di lui anche quando è già svenuto, riverso a terra inerme, dopo una terribile agonia. Gli aggressori a questo punto risalgono sul SUV e si allontanano sfrecciando ad alta velocità, ma fortunatamente uno dei presenti, l'amico di Willy, Matteo Larocca, riesce a scattare una foto alla targa del SUV nero. A distanza di qualche ora i carabinieri si recano ad Artena nel bar Night Bistro di Alessandro Bianchi, fratello maggiore di Gabriele Marco. All'interno del bar trovano, oltre ai fratelli Bianchi, anche Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, tutti particolarmente agitati. E, ahimè, proprio in questo momento i carabinieri ricevono una tragica telefonata dall'ospedale. Willy Monteiro è morto a seguito delle ferite riportate nel brutale pestaggio. Nel giro di poche ore, i fratelli Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia vengono arrestati e accusati di omicidio preterintenzionale in concorso. Questi ragazzi hanno già collezionato numerosi precedenti. Nello specifico, Marco e Gabriele hanno alle spalle ben nove denunce, accumulate in un paio di anni, a seguito di risse, minacce, pestaggi, spaccio, porta abusivo di oggetti a ti offendere. Dunque, chi sono Marco e Gabriele Bianchi? Sono appassionati di arti marziali e kickboxing, anzi, per l'esattezza i fratelli praticano la Mixed Martial Arts, ovvero arti marziali miste. Si tratta di uno sport da combattimento che integra le arti marziali ed è sempre più di moda, praticato sia da uomini che donne nelle palestre di tutto il mondo, comprese quelle italiane. Come ogni sport, anche questo ha le sue regole sull'esercizio della forza, ma i due fratelli lo praticano in modo estremo, oltrepassando le barriere dell'agonismo per entrare nel campo dell'odio. La gente li descrive come picchiatori di professione, ragazzi sbandati che venerano il culto della violenza. Interrogati per ore sul pestaggio attuato ai danni di Willy, inorridisce che i due non abbiano fornito alcuna motivazione sulla propria condotta, rispondendo con il silenzio alla domanda «Perché l'avete fatto?». Quanto a Francesco Belleggia, l'avvocato che lo assiste, sottolinea che in questa orribile vicenda vi sono diverse sfumature di responsabilità. Il ragazzo è un geometra in attesa di trovare il lavoro, che proviene da una buona famiglia della zona. Poi, oltre a Mario Pincarelli, più defilato rispetto al pestaggio vero e proprio, c'è un quinto fermato che avrebbe fatto d'autista nella spedizione ai danni di Willy, a cui spetta rispondere riguardo all'accusa di favoreggiamento in omicidio. Gli abitanti del posto dicono che le notti di Colleferro sono il palcoscenico dove si esibiscono i ragazzi come i bianchi, esperti di box e arti marziali, esasperati dal consumo di alcol e sostanze. I residenti raccontano dettagli di notti insonni con famiglie ostaggio di risse e assembramenti, che a quanto pare non erano cessate neanche nel periodo della pandemia. Il sindaco, invece, giura che Colleferro è una cittadina tranquilla, nella quale al massimo era volato qualche insulto davanti a una partita di calcio. Il profilo Facebook di Gabriele Bianchi trabocca di frasi spavalde e aggressive, anche se nei mesi di lockdown si era posto il problema pratico di come andare avanti, perché gli sport da combattimento non gli garantivano la sicurezza economica. Così stava svolgendo un lavoro meno bellicoso, quello del fruttivendolo, anche se sulla famiglia Bianchi grava l'accusa di aver richiesto e percepito illegittimamente il reddito di cittadinanza. In un servizio andato in onda durante il Tg Lazio del 4 agosto 2020, Gabriele Bianchi veniva lodato per il suo coraggio imprenditoriale, in quanto aveva deciso di investire in un lavoro autonomo, nonostante le incertezze legate alla pandemia. Ho aperto circa un mese fa, diceva la giornalista, riferendosi alla bottega di ortofrutta. No, non ho avuto paura, anche perché ci credo molto. Il giorno dopo una testata locale gli aveva persino dedicato un lungo articolo, proponendolo come esempio da seguire con tanto di foto a riempire due colonne. Gabriele si mostra spigliato davanti alla telecamera nelle vesti di fruttivendolo e appare in atteggiamenti da macio nei numerosi post e video pubblicati su Facebook, dove mostra i muscoli, la sua motocicletta, oppure si mette in posa assieme al fratello Pugile o alla fidanzata. Ma, andando a ritroso, balza agli occhi una sua fotografia del 17 marzo, che risulta addirittura profetica alla luce dell'accaduto del 6 settembre. Gabriele Bianchi, scuro e involto, guarda l'obiettivo da dietro le sbarre. A prima vista, l'ambientazione sembra proprio un carcere, o la zona riservata agli imputati detenuti in corte d'assise. Tuttavia, lui stesso aveva replicato agli sfottò degli amici dicendo «Ao, non ho intenzione di finirci. Scherzi a parte, un allestimento nel negozio di un mio amico e mi sono fatto una foto così, per gioco». In altri post scriveva con piglio da duro «La vita in ginocchio fatela fa' all'altri». Oppure «Non cambio per nessuno». O ancora «Essere maledetto mi benedice». Dalla sera di domenica 6 settembre, appena il suo nome comincia a circolare sul web, in qualità di fermato per l'omicidio di Willy, Gabriele Bianchi e suo fratello Marco vengono maledetti sul serio. E da tanta gente. Il profilo social viene invaso dagli insulti di centinaia di cittadini, sull'onda della rabbia, del dolore o dello sdegno per la tremenda fine toccata al povero Willy. A rompere il silenzio dei fratelli indagati è Alessandro Bianchi, il primo genito che si sfoga e piange sull'uscio del grande cancello in metallo della villa dei genitori, incontrada Colubro, ai margini di Artena. Disperato per la sorte di Willy, dice «Quella sera Gabriele e Marco sono venuti da me al locale, erano inferociti con gli altri due. Dicevano «Per colpa di sti due hanno fatto un casino» e ovviamente si riferivano a Mario e a Francesco. «Non dico che non c'entrano niente, ma io sono sicuro che i miei fratelli non hanno ucciso nessuno e la verità verrà fuori, ci sono i testimoni». Inoltre Alessandro teme per la sua famiglia, composta da moglie e figlia, in quanto hanno ricevuto minacce di morte. Infatti per qualche giorno chiude il suo bar in via precauzionale. Spiega ancora. «Ci hanno dipinti come boss, hanno detto che è il covo degli assassini, ma l'ho aperto con i miei sacrifici. Nostra madre lavorava nelle serre e mio padre nei campi. I guantoni ai miei fratelli li ho regalati io, gli ho trasmesso la passione per l'MMA, ma anche il rispetto per l'avversario. Non avrebbero mai dato un calcio a un ragazzo a terra indifeso. Sono allenati e sanno controllarsi». «I miei fratelli fanno gli spacconi sui social con le frasi da rapper e le foto in posa da duri, ma il SUV di quella sera era il mio, comprato usato e gli orologi che sfoggiano valgono 200 euro. Devono mostrarsi così anche per impaurire gli avversari». Poi però ammette. «Sì, hanno partecipato a liti e orisse, ma sono bulli con i bulli, per difendere gli amici quando li chiamano. Quella sera chi era presente mi ha detto che si sono trovati una situazione di 15 contro i loro due amici che avevano cominciato la lite nel locale. Loro sono arrivati alla fine, avranno dato qualche spintone, ma li conosco e non si sarebbero messi contro uno più piccolo di loro». Intanto i quattro presunti assassini di Willy sanno che se hanno mezza possibilità di alleggerire la propria posizione devono riuscire a sottrarsi dall'accusa più pesante, non ancora formulata dalla procura di Velletri, ma che aleggia sull'intera vicenda. Quella di aver ucciso il ventunenne volontariamente, colpendolo con un calcio al volto quando era a terra. Tutti e quattro però sostengono di non aver neanche toccato Willy. Sarebbero soltanto intervenuti per sedare una rissa. I fratelli bianchi dicono di essere stati chiamati da alcuni amici, ma ritengono di non aver preso parte alla lite, semmai di aver cercato di intervenire per separare i litiganti che, a quanto dicono, neanche conoscevano. Secondo loro, quando sono andati via, non c'era nessun ragazzo a terra. Quindi, domanda, da chi è stato ucciso barbaramente Willy? Un fantasma lo avrebbe sfinito a suon di botte? I fratelli bianchi hanno addirittura il coraggio di concludere dicendo siamo dispiaciuti e distrutti perché accusati di un omicidio che non abbiamo commesso. Una tesi che invece ribaltano gli altri due arrestati, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, di 23 e 22 anni, che fin dal primo momento hanno provato a scagionarsi dalla responsabilità più pesante, il primo alludendo a ruoli diversi nella vicenda, il secondo chiamandosi fuori da ogni coinvolgimento. Per attribuire le responsabilità in modo preciso, risultano incisive. Le testimonianze degli altri ragazzi presenti, i due dei quali indicati come super testimoni proprio dagli stessi fratelli bianchi. L'esame del video della telecamera puntata sulla piazza dove è avvenuta l'aggressione, collocata alle spalle della caserma dei carabinieri. L'analisi delle immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso della zona e dei tabulati telefonici. La procura di Velletri, oltre a queste direttive, dispone anche una consulenza tecnico-scientifica sugli indumenti dei quattro sospettati. Le ordinanze di arresto per i fratelli Gabriele e Marco, per Mario e per Francesco, trovano infatti fondamento nelle testimonianze di chi ha assistito all'aggressione. Soltanto Francesco ottiene i domiciliari perché il GIP gli attribuisce una posizione più sfumata. Nel valutare l'omicidio, il GIP riconosce l'aggravante dei futili motivi perché quella di Willi è stata un'aggressione senza plausibile ragione, attuata contro una persona estranea ai fatti. Testimone chiave è Samuele Cenciarelli che si trovava con la vittima e gli altri amici. Samuele racconta I ragazzi con i quali Federico, l'amico di Willi, stava inizialmente discutendo, ricordo che uno indossava una camicia di colore bianco e aveva in viso tatuata una lacrima sotto l'occhio, nonché diversi tatuaggi su entrambi le braccia e le mani. L'altro ragazzo, invece, aveva un braccio ingessato. Al momento dell'aggressione, ricordo che, oltre ai predetti ragazzi da me descritti, si sono uniti altri tre ragazzi, di cui sono in grado di descriverne soltanto due. L'uno indossava un Apollo di colore verde e con capelli molto corti e l'altro con un vistoso tatuaggio sul collo. Per quanto io ricordi, tutti i ragazzi sferravano calci e pugni contro me e Willi. Ho un vivido ricordo di un paio di loro che addirittura saltavano sopra il corpo di Willi steso in terra e già inerme. Il Jeep che convalida gli arresti e sottolinea pure che i bianchi e Mario hanno cercato di minimizzare il fatto, assegnando la responsabilità a terzi. Devono restare in carcere e sono definiti come incapaci di controllarsi e pericolosi, indifferenti alle conseguenze anche giudiziarie delle loro azioni. Nel convalidare l'arresto e motivare la decisione di lasciare in carcere i due fratelli con l'accusa di omicidio preterintenzionale, il giudice valuta prudenzialmente corretta questa contestazione ma già individua una evidente compatibilità astratta con la volontà di uccidere. E ancora, scrive che Willy era semplice spettatore di una discussione che stava volgendo al termine ed era dunque del tutto impreparato all'aggressione. Per circostanze e velocità dell'azione non faceva in tempo opporre alcuna resistenza. Il pestaggio da parte dei quattro secondo il GIP è stata un'azione mossa dalla volontà di affermare attraverso l'uso brutale della violenza fisica il loro predominio e la loro supremazia. Un'altra testimone Faiza Ruissi dichiara che conosce tre delle persone che si sono rese responsabili della rissa ossia Gabriele e Marco Bianchi e Mario Pincarelli. Materialmente Willy è stato picchiato da Gabriele Bianchi che prima gli ha sferrato un calcio in pancia facendolo cadere a terra. Quando si è rialzato Willy è stato nuovamente colpito da Gabriele è ricaduto a terra ma non si è più rialzato perdeva sangue dalla bocca ma nonostante le condizioni critiche del ragazzo Gabriele l'ha picchiato ancora mentre era steso al suolo poi gli assassini sono scappati come dei codardi quando è sopraggiunta la sicurezza dei locali vicini. Marco Bianchi invece racconta che lui e il fratello stavano avendo rapporti intimi con delle ragazze sconosciute vicino al cimitero quando è stato chiamato da un amico che gli ha chiesto di intervenire in proprio soccorso. Sulla rissa minimizza dichiara che si è limitato a spingere Willy perché stava discutendo con altri ragazzi ma poi si è allontanato lui non ha sferrato alcun colpo Gabriele invece dichiara di aver soltanto spinto l'amico di Willy Federico tuttavia il fatto che i fratelli sono arrivati subito dopo la telefonata dell'amico avvalora l'ipotesi della spedizione punitiva ed è proprio questo particolare che rafforza l'accusa di omicidio volontario non c'è dubbio che Willy è vittima di un politraumatismo importante con lesioni multiple o più organi in diversi distretti del corpo quando inizialmente si era supposto che le riportasse soltanto al torace e all'addome ha ricevuto calci al volto alla testa al torace fino a spaccargli il cuore e gli altri organi interni il pestaggio è stato talmente violento e i danni sono talmente diffusi che il medico legale non riesce a determinare quale tra le tante ferite l'abbia portato alla morte l'ambulanza era stata chiamata alle 3.25 e a quella chiamata ne sono seguite altre ma i soccorsi sono arrivati ben 40 minuti dopo almeno questo è ciò che sostengono i testimoni diversi sono i punti ancora oscuri di questa storia prima di tutto non sono stati individuati tutti i partecipanti alla rissa poi vi sono delle domande che rimarranno senza risposta perché i fratelli bianchi che avevano accumulato numerosi precedenti per risse e violenze continuavano ad agire indisturbati se l'ambulanza fosse arrivata prima Willy si sarebbe salvato come mai nonostante i divieti di assembramento previsti dalle norme anti-covid la piazza di Colleferro era piena di persone a seguito dell'autopsia eseguita sul corpo di Willy la procura di Velletri cambia imputazioni per i 4 arrestati da omicidio preterintenzionale in omicidio volontario aggravato dai futili motivi gli esami infatti chiariscono una volta per tutte che il giovane è stato sottoposto a un'aggressione prolungata il corpo presentava numerose lesioni gravi che hanno provocato lo shock e poi l'arresto cardiaco i fratelli bianchi a questo punto vengono messi in isolamento nel cosiddetto braccio protetto a loro tutela cioè per evitare aggressioni da parte degli altri detenuti tra le infinite minacce arrivate ai presunti assassini e ai loro parenti senza distinzione soprattutto sui social c'è stato anche chi gli augurava di sperimentare in carcere un trattamento analogo a quello che loro avevano riservato a Willy come detto il fratello maggiore dei bianchi Alessandro aveva chiuso il suo locale per qualche giorno temendo ritorsioni e anche agli avvocati difensori sono arrivate intimidazioni per la loro scelta professionale di assistere i 4 accusati del delitto passano 5 mesi dall'omicidio quando Mario Pincarelli detenuto nel carcere di Re Bibbia e intercettato dai carabinieri dice gli ho tirato una zampata quando stava a terra questa di fatto è una confessione nel frattempo i militari del nucleo operativo e della compagnia di Colleferro hanno lavorato per rafforzare il quadro delle accuse infatti si aggiungono una decina di testimonianze e tutte concordano nell'identificare Gabriele Bianchi come colui che ha sferrato il primo calcio frontale con la pianta del piede al torace di Willy facendolo sbalzare contro un'auto per poi colpirlo di nuovo con dei pugni al volto mentre provava a rialzarsi dei colpi analoghi sono stati sferrati anche da suo fratello Marco dopo i bianchi si sono scagliati su di lui Pincarelli e Belleggia non c'è quindi nessun dubbio che la morte di Willy è stata la conseguenza diretta dei colpi inferti dai bianchi il 10 giugno 2021 comincia il processo a carico dei fratelli bianchi la cui reputazione come detto andava ben oltre i confini di Artena tutti li identificano come attaccabrighe pericolosi privi di compassione nei confronti del prossimo la conferma arriva anche dalle chat depositate agli atti di un altro processo nei loro confronti inerente alla vendita di sostanze i bianchi comunicavano sulla chat di whatsapp con alcuni amici della loro comitiva si evidenziano messaggi dal tono violento offensivo minaccioso nei confronti delle loro vittime ragazzi presi di mira per un motivo o per un altro in uno di questi messaggi si legge camminerai sulla sedia a rotelle pensi che non ci arrivo a terracina o dove cazzo abiti io ti trovo credi che io sia l'ultimo arrivato e ancora un giorno ti avrò davanti e quel giorno lo ricorderai per tutta la vita ti trovo i bianchi vengono intercettati durante i colloqui con il fratello Alessandro che va a trovarli i due sono stati sottoposti a una serie di punizioni e vessazioni da parte di altri carcerati qualcuno ha infilato un chiodo nel tubetto del loro dentifricio qualcun altro gli sputa nel piatto nel settembre 2021 invece è Ruggero Bianchi il padre dei due fratelli a malmenare un cameraman della trasmissione La vita in diretta in onda su Rai 1 L'operatore stava riprendendo l'esterno della villa di famiglia quando è stato raggiunto in strada da Ruggero Bianchi che lo ha preso a calci e a pugni La giornalista inviata che era con lui insultata dalla moglie di Bianchi affacciata alla finestra si è allontanata insieme all'operatore che si è fatto medicare al pronto soccorso dell'ospedale di Frosinone dal quale è stato poi dimesso con tre giorni di prognosi Proprio Simonetta di Tuglio la madre dei fratelli Bianchi durante uno dei colloqui in carcere dice rifferendosi a Willy lo hanno messo in prima pagina manco fosse morta la regina pensare che inizialmente si era detta solidale alla madre del ragazzo ucciso durante il processo Marco Bianchi sostiene di aver colpito Willy con un calcio laterale assestato sul fianco sinistro e non al petto lui l'aveva spinto e Willy si era rialzato è chiaro che Marco prova a minimizzare i fatti e il suo ruolo nell'uccisione di Willy anche nel rivolgersi alla corte al PM è sempre attento a dosare le parole e i modi afferma ho sempre detto la verità ma non sono mai stato creduto è morto un ragazzo ma se lo avessi colpito in modo grave non me ne sarei mai andato lasciandolo lì mi rivolgo ai familiari di Willy se avessi sbagliato lo ammetterei non sono un mostro ho sempre detto la verità a differenza di altri sono un ragazzo semplice lavoravo al bar di mio fratello Alessandro e ho sempre fatto sport se avessi colpito Willy nel modo che viene detto mi sarei preso alle mie responsabilità se sbaglio pago non sono uno che ha paura della galera non avevo capito la gravità di quanto accaduto quando ci siamo allontanati in auto ma non fuggivamo quando siamo risaliti in macchina siamo tornati verso il ristorante di mio fratello Belleggia si è intruffolato in auto Pincarelli non è salito con noi Omar Sahabani un altro ragazzo accusava e insultava Belleggia per aver colpito quel ragazzo senza motivo quando siamo arrivati ad Artena ho detto a tutti di prendersi le proprie responsabilità e quando i carabinieri ci hanno portati in caserma ero ignaro di tutto ma non è finita qui perché Marco tenta anche di scagionare suo fratello dicendo Gabriele mi disse che aveva colpito un altro ragazzo perché temeva colpisse me e che non colpì invece Willy tutti in pratica si scagliano contro Belleggia accusandolo di essere colui che ha portato Willy alla morte Belleggia però quando viene ascoltato dice non ho mai colpito Willy Marco Bianchi lo ha colpito più volte con una scarica di pugni anche dopo che si era rialzato anche Gabriele si affiancò a Marco dando un calcio a Samuele Cenciarelli l'amico di Willy che alzando le mani diceva che non c'entrava nulla poi ho visto sferrare un ultimo colpo da Marco Bianchi su Willy infine è Mario Pincarelli che esordisce con mi dispiace nessuno voleva uccidere Willy nel maggio del 2022 la procura di Velletri richiede la condanna all'ergastolo per i fratelli bianchi e a 24 anni per Mario Pincarelli e Francesco Belleggia l'incipit della requisitoria del PM è questa la morte di Willy Monteiro Duarte può definirsi casuale solo in riferimento all'identità della vittima ma non si possono avere dubbi sul fatto che prima o poi sarebbe capitato un episodio simile viste le condotte dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi è un caso anzi che sia morto solo lui e non anche l'amico Cenciarelli colpito con un calcio alla gola anche questo non casuale da lasciarlo senza respiro mentre provava a soccorrerlo quella di Colleferro è stata un'aggressione becere selvaggia contro un ragazzino a luglio i giudici della corte d'assise di Frosinone confermano la condanna all'ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi mentre per gli altri imputati la pena è ridotta ad anni 23 per Francesco Belleggia e 21 per Mario Pincarelli nell'aula risuonano gli applausi e vengono scambiati abbracci gli amici di Willy lacrime sono risollevati perché almeno giustizia è stata fatta e anche la madre del ragazzo ha lasciato emergere più volte con estrema compostezza e rigore morale che ciò che si aspettava era giustizia non vendetta visto che non può più aspettare che Willy torni a casa infine l'avvocato della famiglia di Willy Domenico Marzi del foro di Frosinone commenta augurandosi che questa sentenza possa fungere da monito per i giovani che hanno condotte orientate al conflitto i fratelli bianchi in queste circostanze hanno ottenuto una congrua condanna ma per lui l'ergastolo è un sepolcro sulla vita nel luglio del 2022 i fratelli bianchi vengono divisi Gabriele resta nel carcere romano di Re Bibbia mentre Marco viene trasferito viene inoltre richiesto il primo risarcimento i fratelli bianchi e gli altri imputati devono versare 550 mila euro alla famiglia di Willy purtroppo emerge che i bianchi sono nulla tenenti dunque i familiari di Willy rischiano di non avere alcun risarcimento tuttavia per i due fratelli i problemi giudiziari non sono finiti infatti potrebbero essere coinvolti in altri procedimenti per reati che vanno dalle lesioni alla rissa per futili motivi nel primo caso i due sono accusati del pestaggio di un 25enne di Lanuvio era il 2018 i fratelli lo avevano mandato all'ospedale con una prognosi di 30 giorni poi risulta una rissa sfociata nel pestaggio di un ventenne di Velletri e di un ragazzo di origine marocchina ma non è finita qui infatti emerge un altro caso Marco Bianchi sarebbe in attesa del processo per lesioni nei confronti di un 22enne originario del Gambia infine Gabriele è sotto accusa per aver pestato un quarantenne indiano nel 2019 sembrerebbe dunque che i fratelli fossero soliti accanirsi contro le persone provenienti da altri paesi e in molti sostengono che sono stati i loro sentimenti razzisti a spingerli a infierire su Willy ma al di là di questo ciò che fa disperare analizzando questo caso è che un ragazzo innocente buono d'animo pieno di determinazione e speranza verso il futuro ha perso la vita per scelta di chi al posto di ragionare ha preferito dare sfogo alla propria violenza più selvaggia detto questo ragazzi ho finito di parlare di questo tristissimo caso immagino che voi lo conosciate fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate in un commento qui sotto sono molto curioso ovviamente come sempre io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.